Che cazzo di malefari, porco due? Cosa hai già trovato? Buonasera a tutti. Cosa hai già... Ah, il tizio che invade, dici? Ti hai già fatto aprire? Come sempre la stamina loro battisce. Chiaro. Non lo voglio. Ahia. Ma vabbè, ma quanto lontano. No, ma io non sono ancora dal tizio che invade. Sono ancora dal rompiballe. Dal cavaliere magico. Eh, vabbè. Oh, adesso t'ho preso e... Qual diavolo? Perché poi mi ha congelato, mi ha... Tutto. Mettiamo un attimo l'anello. Dello gatto, così non mi devo neanche curare. Moneta loro durugginita. Wow. Wow. Frammento grande titanite mi va assolutamente bene. No, è vero. Poi c'era anche il tizio che ti barra al fuoco. Scusa, un delfino adesso per i messaggi. No. A parte il fatto che lei ha già chiesto tipo otto volte. Cosa? Il delfino. Sì, lo so. Che che fa casino. Io probabilmente, perché sto girando il microfono, perché tutto... Mi esce il termine italiano, ingattiato si cavi, ecco. Ingarbogliato. Ecco, grazie. Presumo. Sì, sì, quello. Sì, ma mutalo un attimo piuttosto, perché... Sai cosa vuol dire al tabare Dark Souls? Scusa, scusa. Sì, comunque sì, lo so. Una merda. Che poi muta tutto quanto, non sotto più niente per tre secondi. Sì. Se solo avesse il full screen borderless... Ma no. Eh no. Sarebbe troppo bello. Non va più. Alva cercatore di raietti, hai già avratto un po' le balle. Con sta spada chilometrica. Quindi andare alla chiesa di Yorkshan. Sì. Poi vai avanti e poi quando arrivi all'acqua vai verso le prigioni. Vaffanculo, Alva. In questo da solo i maghi possono veramente cagare. Ma ci si può invadere a... Cioè ci si può evocare primo... No, proprio alle prigioni. Perché non puoi proprio usare la pietra bianca. Solo dentro le prigioni proprio puoi. Quindi ti tocca camminare fino a lì. E fare anche il tizio. Mi ricordo che mi invadono un tizio. Solo se sei bruciante. Se no, no. Voglio essere bruciante. E allora ti farai... Verrai invaso da... Ecco, c'è la scensura che non l'avevo mai aperto. Perché mi avete fatto rushare e mezza roba l'ho saltata. Lulz. Guarda quante roba ho saltato. Vabbè, io sono già al fallo delle prigioni comunque. E io sono ancora Irillet della valle moreale. No, aspetta, Irillet è quello di Skyrim. Chi era il Tilsi? Sì, no. Tils, no, Irillet. Sì, no. L'avevo quasi sbottato giù. Mi sei buttato giù da solo. Coglione. Ti ha già dato la Murakumo? Sì, non ho fatto fuori a pugni. Perché con le magie, vai prima a farlo fuori a pugni. Mi sembra giusto. Ah, ma io l'ho presa sacra. Ho la magia della presa sacra. Cos'è la magia della presa sacra? Quella che fa il bacino e poi esplodi. Esplode, scusa. Sì. È la piromantia, quella che... Fa più più più, gli agguanta, gli pianta una fiamma nel cuore e poi quell'altro gli scano le più bella e inizia a vogliare scuoto. E poi scopre un po' più l'artificio. Forse non è proprio così, ma da me... Oggi chiede la piromantia. Lo dalti è una brutta notizia. E una scorreggia, quella roba dì. Cosa vuol dire? Fa schifo. Ma dipende. Tu, Lucchino, dicevi che anche le doppie spade facevano schifo a me stanno piacendo. Dicevi che anche la culla del caos faceva schifo, ti ricordo. E a quanto pare è sciotta. Ok. Lucchino, quella roba che fa schifo è invece del figa. E oppa, oppa spack. Oppi. Oppi, oppi, plisnerf. Chi evoca per primo? Nell'attesa che... Lo con calma, adesso non ho più arrivato al primo foro. Io l'ho messo davanti alla prima porta. Vai, io faccio fogliopugni questi qua. Va bene, evoco io. Il trappolozzo mi era già dimenticato. E dove si può arrivare in co-op? Tornando indietro. Ci siamo shottati vicenda. Ah, volendo si può fare Alva in co-op ancora. Perché se arriva fino alla porta dove ci sono le scale, poi scendi fino ad arrivare a dove arriva Alva. Volendo. Tentativo numero due. Hello. Ho finalmente una fiaschetta di vita. Una? Non esagerare, che poi... Ma c'è anche le cure. Matte. Che curano quanto? Metà di una fiaschetta? 25 per la cura maggiore, che cazzo Non metto 25 di fede E poi che prete saresti, scusa Ho cane che mi ha dato un rage e quindi Buono che lo succede così E adesso aspettiamo l'altro che arriva Potrebbero mettere una conga in dorsi Esa mettiti la magia invisibilità Corri Sì sto correndo E voi dove siete? Già al falò delle prigioni Dopo Alva Io sono da Alva ora E poi quando arrivi al falò metti pure il simbolo Che ti evoco io va Perché tanto sono sempre il primo Ecco qua il cercatore di relitti Non di relitti Io ho diventato un pirata Ciao Torno a casa Ti ha mangiato massacrato? Due colpi Ho messo un po' Il luchino l'ha proprio a pugni Eh ma il luchino è un figlio no Lui c'ha la swag Anche il naso E poi sono il prigioniero Capicciati il falò Metti il simbolo Aspetta che lo vedo Se lo vedo Oddio adesso ha triggerato anche tutti gli altri cani Che palle Che cani? Che cani? Non sentite niente? No 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 Il mio cane ha triggerato gli altri L'avvicinato Non si sente nulla O meglio Bravo luchino che ha capito No mi avete già tappato la porta No no Così posso farlo io Eh aspetta che devo controllare una cosa Momento OBS calmati un attimo Ok Che ha preso il momento Uberlug Ho sentito un crash Di Vabbè Senza Era quello Probabilmente Si La FQ che vi ho tirato io Si Oddio me l'ho preso io Quella FQ che urla No l'ho preso io Non mi ricordo cosa danno ste cicce Quindi Prometo grandi titanite Grazie Qualcuno può aprire Altricantismo luce Eh? No no È chiuta Abbiamo già stati invasi Che vale Di già Di già E non ho usato i diti Ma là c'è la ciccia Dove? Se la vedi vuol dire che non è una Oh ma cazzo è già qua È la pietra prismatica Curatevi prima che Ma ma fa un culo Devo allollarlo Va bene È durato tanto Aspetta 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 Ah no ma siete tutti curati Eh amen Sì è centrato solo te No anche il primo colpo Perché Non l'avevo visto Ma non muore con un colpo solo Maledetto Anima morente Grazie Ops Stavo solo uccidendo tutto Prima che rompesse le balle Allora prendo solo la ciccia Che è là in fondo E arrivo Sponento grande di titanite Grazie No è stata uccisa Lascia 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 Mettiti non quel pugno lì Mettiti il pugno quello rosso Fa un male devastante Ma tocca il 300 con questo pugno Lascia il primo colpo Ma l'ho sottato O l'hai colpito anche tu No l'ho colpito anch'io Ah ok Ma gli hai fatto comunque Questo non l'avevo visto Grazie Non mi ricordo dove Bisogna passare Forse non dobbiamo passare di qua Ma di qua allora Dobbiamo passare giù Ehm si è iniziato a tocco in petto Tutte le prisioni di là Si perché se no non hai la chiave Che pezzo? Ehm no questa qua dietro diceva Ah ok No aspetta non c'era un muro con vento Un tizio che ti guardava con un occhio bispo e Eh dopo 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 No aspetta non c'era un muro con vento Ah c'è C'è un altro problema che quando ci sono fallo io ho fatto Che cazzo tira Non l'ho mai visto tirare la roba da questi E' chiusa Qua ti droppano le gemme semplici però manca il tizione Allora qua c'era una ciccia E questo mi ricordavo Lo prima ma Vabbè Faccia Non ho ancora preso la torcia Allora che ci penso Vecchio cappello da stregone Vecchia roba da stregone Ok Ah aspetta questo qua lo uccido io Ti apro la porta allora è Ah fai tu La fancura l'hai preso Mi ha tirato le sanguisughe Scudo magico maggiore grazie Ho visto un 5.000 Uuuuut Mi passi la torcia un attimo Poi te la ridò C'è i vermi Che non mi sono ricordato ancora di comprarla Sta merda di torcia Eh assieme agli scusi Eh ma non ce l'ho proprio Io ne lascio una Problemi vostri Io ce l'ho Sono un cretino L'ho tolta e l'ho rimessa L'ho rimessa e l'ho tolta Oh Perché mi manca un anello Ecco perché consumo così tanta mana Un momento che non mi ricordo Cosa bisognava fare Buttarsi giù di sopra E tornare sopra Andare dall'altro lato e buttarsi Prima Forse caso che mi No dai Tre ceschezze un po' mi mostreranno Spero che ti invadano Grazie Non puoi buttarti giù A meno che non hai la chiave qua No No di qua Dall'altro Ma aspetta un attimo Oppure passate di qua dove sono io adesso Di qua No qua 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 dove sono io adesso Si può passare senza buttarsi La regione ripa La regione ripa Ah no è chiuso è vero Ma come ho aperto quella Vieni di qua Vieni di qua Oh hai chiuso il mostro Non ho chiuso niente io A meno non ho aperto ancora niente Ah eccolo qua il mostro Ecco la faccina vispa Vispa Oh shit Se quello lo chiami vispa Non me lo uccidere che non fa nulla poverino Magari ti droppa la pietra rossa Anche quello lì non faceva nulla Infatti non l'ho mai ucciso Non l'ho mai preso la pietra rossa Quello lì effettivamente non l'ho mai visto droppare nulla Ho vomitato questo maledetto Guarda la vita come scende Preso preso Due fiasche Questo qua però attacca Quindi Se le prende Gemma semplice Occhio dalla La parte Allora questa porta è chiusa È inutile che ci andiamo Mi ricordo che è chiusa È giallo così Allora No vieni qua E che palla Ah c'è il muro Ok Preso tutto Massacrato Pensa lascia perdere Mi curo io Non vi curo più perché ho due fiasche e poi non faccio più niente Va bene Me ne tengo per il Mimic Guarda la capitale delle scodelle Lì come cazzo si chiamava Sare profanata Dimenticata Non ricordo Quale fosse delle due Sinceramente al momento Profanata mi pare Che cosa è successo Ne abbiamo ucciso uno No mi sono preso mezzo sanguinamento Freccia Eh sarà stata la freccia allora Oh 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 Eccolo qui Eccolo qui Me lo ricordo Sì ma questo qua mi buffo Questo però è strong Grandi Potrebbe dare un frammento di Estus Una scheggia d'estus Mi ricordavo bene Ok qua però adesso arriva tutto il bordello Nemico standard Tutti avanti Oh madonna sono ancora tutti ingrumati No 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 Calma 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 Grazie per la cura Aia Credo che ci arrivasse Poi ce ne sono ancora tre Che tirano frecce Aia Mi curo un attimo Ok va bene Grazie che mi ha droppato Sono qui in escremento Io mi butto direttamente di qua Così non dobbiamo neanche uccidere il gigante E tutto Saltiamo direttamente tutta quella parte lì E via Però Pesa mi riesce a curarti Perché vedo che sei un po' malmesso Eeeeh no Ok Allora magari stai Stai un po' più indietro allora piuttosto Stai un po' più indietro piuttosto allora Prima di Però non stai tanto indietro perché poi arrivano le Oh stai tanto più indietro Allora non mi ricordo qual era dei due il Mimic Quello destro e quello sinistra Sì perché ho visto che E' diventato umano e poi trovato Mimic Sì Però dovrebbero E' il Mic inverso No aspetta facciamo prima le Già arrivate? Sì Beh io vi guardo No levatevi levatevi grazie eh Sì ma sta portarcelo qua E vabbè hanno fatto la nebbia Sembra Milano cavolo Ok Quasi più umano Sì l'ho visto che era Va bene Ok ok Calma 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 Lucchi Si finita Anello dell'oscurità Game dammi la fiascetta please Anche una mea please Anche una mea please Anche una mea please Bastate un attimo che ci sono i due topi giganti Se vuoi posso alternare una cura Aia Ho salvato la abit Un altro oggetto Un altro oggetto Oh beh Vieni qua Vieni qua Ah c'è Ti ricordi che zona è questa? Sì infatti prima vado a prendere la scorciatoia Chissà perché Ok Allora prendi anche la pietra del torso di Drago Vieni sulla genzore chiunque manchi Pesa Ma... Ok Sei leggero Pesa Non lo so Sei dimagrito Allora c'è una ciccia qui E porta qua Ehm... E se io ti lasci su? Ok E poi... Vedio quanto duri va Allora io scendo qua a prendere la ciccia Una lama del fulmine E mi buttavo dall'altra parte forse non prendevo danni ma piace No perché lì sopra di noi io non mi spostavo tu rimanivi a mezz'aria per troppi secondi e morivi Ah se rimani per troppi secondi Sì a mezz'aria sì dopo un po' muori Allora lasciamo o cosa? Allora io magari prendo solo... quando dobbiamo messarci un carbone? A gratto Allora io corrette avanti io prendo giusto la roba qua e pace Carbone profanato, perfetto Che palla che siete però eh Correte, correte, correte Mi stai scegliendo la direzione sbagliata Arrivo, arrivo, arriviamo Si girà, forse Ok, è morto, è morto Ehm... non posso curarmi Grazie per la brace Non 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 fotetevi Non posso correre perché mi ha bruciato Sì, ma qua c'è ancora un golem lì per Goyle e poi per Falò e piuttosto ci faccio evocare da qualcuno di voi e facciamo tutto sto pezzo. Ma non... scusa, ma perché non puoi vedere l'NPC che ci arriva e mai che ci sei? Perché non può. NPC. Eh sì, devo fare il giro di qua per... È caduto giù! Come è caduto giù? È caduto giù! È caduto giù la porta! L'ho visto, mi ha trovato sbattere contro il ponte ed è caduto giù! Ok! Avevo battuto la testa forte contro il ponte! Beh, posso atterrare una cura allora, visto che tanto ci siamo, la farò. Giuro, non l'ho visto il gol, il gargoyle lì che si è schiantato! Tu devi stare meglio se è inutile! Allora... Stiracchiati! Ieeeee! Ok, eh, cosa fate? Vi buttate? Io mi torno al fallo di prima e... Quando ho scritto prova ali una volta, perché ho pronto a buttare, mi sembrava abbastanza fattibile. Ho fatto così! E invece... Giusto? Sì! Il succo era quello! E dove? Ok, vado solo un attimo in città che ho con il duo a scheggia e anche il trito di morti lì. Dove è il trito di morti? E te lo dà quando trovi il tizio qua che ti da stiracchiati. Te lo dà insieme. No, te lo dà il mimic. No! No, quello ti dà la scheggia d'estus. Ah già! Ah già! Ah già! E poi l'ho trovato letteralmente ora, quindi... Eh vabbè, daglielo! Ma la chiara dov'è che la trovi? È dall'ultimo mimic che abbiamo fatto. Poi ho trovato anche il carbone profanato. Allora, posso adaffare il sanguinamento. Fammi vedere quanto dà di sanguinamento. Wow, gemma del sangue. Posso da 34 a 38. Come sanguinamento. Wow! E mini mezzo i danni. Fa cagare. La tengo affilata, va bene così. Rinforza arma però potrei uscire abbastanza, sì. Me ne manca uno per farla più 6. Farò un livello anche già che sono qua. Sì. Ok. Brucia anche il trito di morto. Così le fiasche più 6. E prigione i diri. Ti sei perso il trito allora perché ce l'ho usato, sai? Probabile, non mi stupirebbe. Ah, ti sei perso quello dentro la palla di ossa. Probabile, sì. Quello. Eh, ti ho messo il simbolo. Non vedo niente. Tagli un attimo. Ma se io ho il patto delle sentinelle blu, non è che mi evocano mentre sono con voi, no? No. Secondo noi no. Prima è possibile. Prima che evochi uno di noi due, sì. Può essere tranquillamente. Perché tanto vedi che il simbolo in alto a sinistra, a sinistra delle barre, esatto. Se lampeggia vuol dire che sei passibile di evocazione. Che palle però, che le fiaschette vengono rotondate per difetto. Due di mezzo e le rotonda per difetto. Perché non c'è da mangiare fiaschette qua? Ho trovato il meglio glitch. Tipo. Ok, adesso lo faccio già. Ciao, Yaksolute. Ciao. Sera. Schrek Waifu? Wren nächste waifu! No, devo fare i complimenti solo per il nome. Vado io, vai? Che sono saprificabile No, ma vado... Ah beh, credi? Sì, l'hai preso e gli hai fatto 152 Perché l'ho preso la destruction? Da dove arriva? Ma è già partito Quanto lag? A parte il fatto che si è curato Quindi a questo punto mi curo anch'io, stronzo Ok, è andato, è andato Curati prima di Guardi No, no, non importa Tanto ho tante scritte Sì, adesso che ne hai tante Allora, mettiamo sti racchiati Dove lo metto? A posto della posizione di Patches Che... La posizione di Patches è lullosa anche quella A posto del saluto, chi se ne frega Dove sti racchiati, dov'è sti racchiati qua Adesso sì Adesso sì Ma che brutto C'è il naso che esce dal naso Sì Quindi anche gli alpini hanno una pena del genere Devo trovare qualcosa di meglio Tipo questo La prima volta che l'ho giocato Minchia che colpo mi ha fatto venire Non è proprio Allora, questo qua è già morto perché è venuto E questo Se lo prende Ma Muore Qua è chiusa, non mi ricordo Si prende la chiave Qua dove? Un chino sta un po' bloccando La chiave di Carla dove si prende Vieto dal Mimic Ma non è vero niente No, non è dal Mimic Quella è per la chiave di Sigurd La devi prendere poi quando passi da 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 Allora Dobbiamo passare di qua No Sì Mi ricordo più già No No Già Che memoria di me C'ho Ma c'è da andare a me a far fuori questa Che tanto ho già la vita sputtanata Va bene Però c'era ancora uno qua E questi Oh Si è incrociato dal mio colpetto Questo lo lasciavo in vita o Ma scusa Cesar È già andato avanti Cesar Non puoi sentire niente Mentre altavi Vuoi la cura? No, no, no Semplicemente dove eri Ma non tu Ma Interessato Non parla Apriti la porta qua Prima Così a meno Devi farti tutto il giro Non ho ancora riuscito a prenderla Ok Ok Uno è andato senza rompere le balle Vai Ha preso il muro Ok E le gabbie però non gli faccio nulla Se riuscite a farle voi Quello almeno Anche perché vedo che E vabbè non posso avvicinarmi Non gli faccio niente Mi mangi male Devo rimettere una lancia Ma non riesco a portarla Una lancia È chiusa quella porta Ah no Ma quella non c'era la porta Ma la gemma semplice lì Sembra di esagerare Eh mi sembra la gemma semplice Ho un po' poco perché no Tizione però Eh ma dovrebbe dartelo No Mi lo dà il gigante Il tizione Ah boh Cazzone Il merda bastardo Io mi sparo una cura No allora se la spari Allora Vieni qua Complimenti per la cura Poi Qua C'è il tizio E ho preso un muro Giustamente No no ma va a fanculo Ehm Problemi Tanto sei vicino Mi ho avuto un problema Ma Però c'è ancora tutto il pezzo Del Pezzo simpatico Piuttosto uso la scorciatoia Arrivo da voi se volete No Vengo a prenderti tanto Beh non è proprio vicino Ma insomma Stoia aperta Mostri non ci sono No Sì da su Ho appena trovato Il saldatore Ho appena trovato il saldatore Buonasera Diego Non c'è un saldatore Non c'è un saldatore Che mi fa correre più veloce No Quello purtroppo non c'è Basta non insalare la nubi e non finirà la stamina Oppure indossare praticamente niente Ah ma quella roba là dà anche danni d'oscurità Ripa non ce sei Ma dove stai guardando Ah sei al falò Ma sei tanto indietro a prenderti Ma non capisci niente Sto facesse il rainbow Eee no Va bene Allora metto il simbolo lì dal falò A questo punto uso il falò per riparare un attimo le spade Che sono un po' mal messe Ah dici Nesso E se tipo fai Eh stai così roba attorno addosso le persone Eh sì infatti Ma perché sei senza maschera e la pena degli alpini? E il cappello di Paris E quello di prima qual era? La maschera di Mirva Pesa Mi cadi sulle cose mirrose State vocati in un altro mondo Quindi dovrebbe farcela se non mi sparite adesso da davanti tutti No mi piace il più la vesta vera Nel poco Con la caracera di Mirva è brutta E poi ci sono io col vestito inguardabile Da pezzente Aspetta non posso mettere neanche lo scudo di cosa? O quanto di riforza E due mani Ma due mani non ho avuto Ho appena finito una partita Tu mi si ricaricava il fucile E mi ha finito di ricaricare da munizioni zero Dopo io se colpio nel caricatore Faccio per sparare E non sparare No cavolo dove ho sbagliato tutto in star run Dovevo farmi full vitalità E andare in giro con Avel Con Avel che trovi tipo alla fine del gioco Ah no però tu mi critica non basta Mi serve anche un po' di forza Eh sì Perché se no non lo porti neanche pagando Non porto lo scudo per per armi Ma in giro col coltellino e basta no? Full nano e col coltello Sembra perfettamente legit Vuoi colpirlo prima tu? Comincio io? No comincio tu Ma Lui Perché non mi sta fa Non mi ha fatto tutto What? Non ha fatto tutta l'animazione dei danni Che per carità Ah quello Perché di solito non riesce a colpirlo Se sta facendo animazione Se gli rolli però gli fai danno Interessante Oh maddo Eh sì Sai rippa Ok 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 Non fa un culo Non fa rullare Eh di qua che si va Sì 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 Se vuoi tagliarti il gigante Sì Beh poi dovrò farlo gigante Perché? Mi non ho mai inciso Sempre passato di qua No Vuoi saltarlo comunque Sì Vuoi prenderti la chiave della vecchia cella Così liberi Sì no Cosa? Io aspetto un po' più indietro Così arrivano già le cose Le ranocchie e questo topo del cazzo l'hai tracciato da me? beh poi ti sentivi solo sei venuto in pianura padana in mezzo alla nebbia molta meno perché stavolta avevo aspettato lì e non abbiamo, non si sono ingrumate tutte comincio di nuovo io il cosa? si wow wow ho visto che si è alzato un attimo di colpo tutto poi dove è la chiave? l'ho presa io e poi non era dal mimi che era nell'altro fallo era nell'altro forziere ma non era la chiave per Carla quella era la chiave per ahia mi ha caricato mi ha segato mi ha caricato in due c'è Diego che dà le risposte delle mie domande le mie risposte accidenti e se serve faccio prima tornare indietro dal fallo della... no 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 sei tempillo è morto è morto anche tu? è morto anche tu? si mi hanno tappato l'uscita eeeh quindi... Lucchino sei ancora bruciante? io sono ancora bruciante facciamo evocare da Lucchino così fa? si però non so cosa cambi perché... quindi è vero che io? io il simbolo l'ho messo fate voi se muoro da fantasma non perdo le anime vero? no non perdi le anime proprio quindi mi lamento si eh da pvp però le perdi le anime da pvp... se ti fai... perché c'è OBS che sta... eh si io posso calma OBS per favore perché c'è un viola dietro il mio culo così? ahahah la cosa mi spaventava un pochino ahahah ahahah quando prendi un cacciavite così cazzeggi anche tu eh no non casti eh non scappi neanche estrui oh ma c'è un combattimento in corso? eh sono spawnato ce l'avevo... avevo un viola dietro il culo letteralmente tu stavo guardando un nome gang mentre che aspettavo che io chiesse una cosa di pesa ahahah ahahah non me lo aspettavo cioè va bene eh frammenti non li prendi neanche ce n'era uno qua e vi va bene ma quando c'era su una casta anche se la peste io aia però mia mi ha punzecchiato no la vesta carciadiere come trova la vesta carciadiere ui saldatore è orribile la vesta carciadiere no 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 mi piace saluti random Diego vi saluta insieme a windows, video e os saluta a tutti no, fin dietro era qua no si che era qua no per ogni porta che va arco no no qua poi tutte le porte che ci sono no ma sto piccio ok anime apriti la scorcia vabbè si chiama la scorcia ma apri la porta e se ne sbatte c'è una porta da aprire ma già è vera ma già è vera devo mettermi un cappello più adeguato perché questo qua non mi piace è vero che ti odio no 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 non mi prendi il culo perché io mi sono messo a fare la cura aiuto faccio bravo ma caccivi le altre persone ma non l'ho cacciata via io solo ho dato un suggerimento se poi le altre persone ne fanno così cosa ci posso fare eh giuro non è colpa mia io vado per la lucertola qua ok niente piripiri piripiri pisci è comunque un nemico da uccidere quindi è da uccidere punto ti ricordo che è la quarta volta questa cosa ce n'è coglioni pieni ti attento eh però ecco dai non fare così il drammatico comincio? stavolta ci hai provato a prendermi uno ci sei riuscito maledetto sembra una valizia maledetto maledetto occhio 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 sono già qua mi è arrivata una freccia e non nel ginocchio mi hanno droppato gli scrimenti che figo che culo un attimo arrivo un attimo solo un attimo solo ciuccia eh me l'hai detto tardi aspetta nope nope più o meno ma stai cercando di evitarmi o stai cercando di prendermi? di prenderti ma tu guarda vabbè quella l'hai proprio tirata a minchia l'ultima guarda guarda sulle banine ti faccio la sagoma faccio l'angelo nelle lucine si vabbè si vabbè stiamo degenerando un po' è lucchino qua eh aspetta riparo 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 eh vabbè lassù aspetta aspetta guarda 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 no oh lo farò oh se lo farò e mi hanno ucciso i topi luiz aspetta 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 tra lui ma dire quello che non doveva morire è vero eh tu eri quello umano si eh mi brucio io allora io metto il simbolo non voglio sapere chi mi evoca lo scoprirò poi quando l'ho bruciato voglio prendermi le mie pacchinali meno volta testo ah già è vero si metti 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 metto io che c***o fa c***are un mago madonna santa io me ne sto facendo anche uno nel frattempo il mago? mago mago si lascio pure perdere no è OP però fai due incantesmi e basta finito è OP dipende il mago mago o no il piramante si il mago miracoli non ne parliamo il miracoli proprio mi rispetto a far miracoli anche se boh no no era sputtato un po' maledetta pesa slidey a biche anche tu si deve biche prima si confermo e adesso mi butta giù ma che ti butti giù? scusa dove sei? il pipe e ah aveva già aperto la cosa non so non dirla si butta giù tutto? vabbè è la stessa cosa che passare di qua ti eviti che simpatico scegli tu più brutti giù è più comodo e accanto che qualcuno c'è rimasto ma fa che mi aveva ciucciato la vita quella troia andate avanti solo liberare la fifa no non può ancora liberare la fifa nooo devo andare a prendere la farò nooo ma muore muore ah vuoi andare a prendere l'uchino da farò adesso? si perchè poi c'è anche tutte le tizie di merda eh mi ci no come cazzo hai fatto evitare la mia palla di fuoco? io li vedo ancora tutti i vivi che slide immobili io te li uccisi credo sono morti tutti insieme tutti di colpo ma vedo anch'io così eh no che bello ehi già a 4 giga 2x2 va ancora bene tanti giochi perfetti forse non partono neanche con 4 giga solo però ancora bene tanto se poi ti rifai i pc inutile levi a te eeeh ci hanno invaso eeeh lì? no non è qua sarà più qua allora ti blocco la strada fino a quando lo trovi io l'ho chiamato vittorio ah l'hai già trovato boh sono arrivato con la mia non potenza non posso morire ho 40.000 anime lasciate in giro e allora inizia a controllarti eh stai un po' più indietro tanto che l'abbiamo giocato tutti guarda solo che non sia in qualche cella questo ancora vivo? come sta cercando? ah è qua no ce l'ha visto vado alla caccia questa che cazzo di piromanzia era quella? coglione ok ehm di qua la piromanzia lì chiede tanto ma scusa non possiamo buttarci più ah al di là non si può buttare niente non ci si può buttare che c'è l'aria in giro no è già morto ok quello è già morto si l'abbiamo già mentre tu è rimasto ma vedete troppa roba anche la stamina mi manca che cazzo si ecco la secatura se posso tirare solo una palla di fuoco perchè poi basta che cazzo mi ha colpito? vado 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 muoro muoro aia che cazzo mi ha colpito? adesso ti curo vai sciando voilà le grandi cure no? come le tue sull'altro personaggio si vabbè l'altro l'avevo messo giusto per mi fermo c'ho tipo dieci di fede cosa pretendi? una vendetta in merda in un altro mondo però quindi non sono i tuoi topi dove ne erano i tuoi anime? i maicotti laggiù sono dentro di là quindi mi bisogna stare attenti ai cosmi ok uno lo tolto io uno è morto sono da queste parti no? si però chi sei delle tizie tanto si posso dopo prender carla quindi rush prendi la scorciatoia qua anche vabbè io aspetto qua tanto non c'è nessun nemico sopra quindi io aspetto qua basta che vado su e poi di su ah no apri la porta vediamo almeno io vengo si sa mai e poi scendi prima che c'è la lama del fulmine non mi servono le lame voglio il fedele fiamma della firma manzia vabbè comunque si sa mai anche lì quando vuoi vai facendo più di putra tuore dimici mamma che lento sta scensore si mi piace un rd da 2 tera io c'ho un ssd da 240 un rd da 1 io ne ho quattro più 250 giga prenderti ancora il tizzone carbone che c'è qua no no lo prendo dopo ciao rippa ok 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 aspetta eh diego tu stai fermo rush b mi hanno mangiato mezza vita non importa te lo tiro su quando arrivi qua sì 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 no ma io ne ho tre poi tanto c'è ok andato 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 i tischi ne ho già tre li sto vedendo come la divisione ok quindi allora grazie per la cura tanto non meno di invasioni strane non dovrebbe servire vai tu prima così guarda come i dettagli a guardare quando sei alti guarda come è messa la ghana lucchino c'è la quota ha chiamato vedere tutto c'è la quota tiracchia ti è il trito di morto vero il macinato di non morto immaginato ok io mi butto YOLO bla bla davanti alle statue che mi dicono che cazzo stai facendo ok allora c'ho le spade mezzerotte il falò è completamente per magia riparate ho messo il simbolo sempre dal falò di prima no io vado due secondi alla eh sì sì non solo il harddisk nella cartella niente altre dischi con differente eh avrei tre partizioni per quello ogni partizione viene vista come un harddisk separato da windows casti mazzi da tutti per quello qualcuno mi evoca in un mondo più brutto troppo verde troppo verde quel mondo verde acceso per essere più problems eh sono 35-35 tra fede e intelligenza 35-35 livello 6 non mi ricordo 35-35 25-25 25-50 50-50 più 5 punti 55 più altri 30 io mi sono già pensi eh sì due livelli in più io sono 74 ah giusto no più 20 dell'armonizzazione più uno perché parto a livello 1 io sono 67 dove viene scelto appena accendo il pc dopo che l'hai montato no quando monti quando installi il il sistema operativo quando installi il sistema operativo puoi scegliere le partizioni e crearle e creare le partizioni il problema è che se c'è della roba sopra adesso se le vi toglia ok mettiti in una cosa mettiti in una cosa lì qua mi metto l'annello per diventare umano e poi mi metto qua mettiti dentro dentro pesa che sei invaso mi metto il dormi io ti vedo camminare sul posto quindi non so cosa potrò fare io mi sono messo dormi in una cella eh e poi il vestito effettivamente si abbina per la cella dimmi solo quando arriva che non vedo eh dove sei? no nella cella davanti a te io sono nella cella davanti a te io sono è entrata un attimo la Yoda mod non c'è l'anello per farti diventare normale perché bianco così si si non posso cambiarlo va bene va bene mi sa che è arrivato vero? si no perchè ci stai lezzando faccio rifare la partizione dell'hard disk eeeh allora per rifare le partizioni dell'hard disk da windows puoi però è una cosa un po' più lunga piuttosto te la dico dopo perché adesso non mi ricordo bene come si chiamano le cose e tutto se la vuoi fare da windows install gen 2 che ne vabbè è un po' più complicato un po' un po' poco poco ma io sento robe ma piano piano è passato ti ha visto faccio faccio release the rip o si release release the rip o che occhio che ci sono gratuiti qua l'ho stuprato no 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 le partizioni sono tutto è tutta roba software ah ma è la stessa di prima è quella che mi invaso anche me si è per quello che probabilmente non si aspettava tre persone credo non lo so oh porca puttana vacca aspetta aspetta te lo no vinco te l'ho backstabato così non ti rompe le balle vai al posto pesa si ah questo lì ho ucciso le scuole statui non avevo ancora preso nulla tu vero? io non mi ricordo non mi ricordo dove eri morto no questo qua l'ho pagata e noi possiamo già andare giù curati prima ma potremmo farlo dire esatto lauripa io cane ah che posto di merda che posto di merda hai perso le anime? no si si richiudi pure il pc diego tanto non ma si invece ha perso le anime eh vabbè le rad costa veramente le ram le rad no le ddr2 sono ancora abbastanza ricercate sarà perchè ci sono ancora tanti di quei pc non proprio nuovissimi che vogliono espandere anche perchè basta mettere la ssd va bene ancora eh però sei poca rama e comunque si sente eh pesa per quello immaginavo ok ora ho 12 estus blu e 0 arancioni perchè hai un estus in più maledetto no il trito di non morto vaccinato con allegria il trito di non morto come mai ci metto con allegria non ti dimenticare con allegria e vai a bruciarlo poi la scheda madre un attimo che me lo metto da posto immaginavo allora va bene togliamo l'anello qua metti l'occhio destro del sacerdote perchè tanto non ho la minima idea di cosa metterci beato te io ho 40.000 anelli da mettere io ho quello della clorenzia quello di flynn l'occhio destro del sacerdote e l'anello dell'estus e l'anello di kratos per fare l'invisibile l'anello di kratos eh? scusa? l'anello di kratos quello che quando rolli si è invisibile ah di kart di kratos di kratos va bene io ce l'avevo fino a quando non avevo 40 di destrezza perchè poi 40 di destrezza adesso non è molto granché pace e l'anello per essere invisibile in un istante dove si trova? mamma che mano verde cos'è radioattivo questo? e non me lo ricordo dove trovi quell'anello quindi ah c'è lui dopo te lo cerco anche se no mi ammazzano cioè se no poi mi ammazzano solo ah questo e nope ok mi è andato via mi è andato via in modo molto non soffiare tu però soffia l'altro ahia grazie che me l'hai fermato non mi bruciava il culo ehm si 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 basta aspettare che sia vita piena eh aspetta solo che mi si cura anche a me vabbè non muoio eh aspetta che c'è sto stronzo che rompe le balle ecco ah si senta è stato one shottato ho sentito nasce da vivere i miei mostri questo mi sta sul cazzo perchè mi ha fatto cadere prima tu piantari di attaccare l'ukino adesso sparo natura vai anche no ehm tanto ora fischiette ne ho a nastro tanto ora vado avanti aiolo nei più però vale tantissimo per il nei più aia aia cos'è che valeva tanto quella in più ah non c'era mai così finchè non andremo mai più avanti vabbè senti ti porto dal falò poi pace va bene ti va bene pesa? se lo porto fino al falò e lo prendo come un sì visto che non sento risposte no eh il microfono accende se non sentirmi perchè stai laggando probabilmente ancora perchè io laggo sempre costantemente e sei server che scaricano porni 24 ore su 24 vado ti recupero dalla pietra del drago ah non l'hai presa io non ho preso beh prendo solo la chiave ah si aspetta aspetta no ma aspetta il cosa cosa ti da? l'anello dell'oscurità che fa? che ti aumenta i danni fatti dall'oscurità però poi prendi tanti più danni ok può stare lì intanto ormai ti arrivano anche tutte le lucertole ok ok direi che chi se n'è di queste? ok stanno prendendo il scurtatoio? no stiamo... adesso stiamo dai... dai toponi ok ok veramente che tu li hai ammazzati tutti e due io sono riuscito a tirare un petocchio ok prendiamo una scorcia va prima almeno tanto prendiamo anche a peso però qua non è proprio vicino al falò quindi non so se vuoi arrivare direttamente al falò dopo vuoi venire a peso? no va a prendere la scorciatoio ma Ripa non mi ascolta quando parla ma... a questo punto ogni cosa che dico da mi ascolti ogni cosa sembra te mani in tua moglie dove sei? la dal drago sul corridoio che fa la curva abiti solo la porta sembra mio marito e moglie chi è la moglie? ho paura a saperlo non so però i nostri quelli dove c'è il drago ok trovate so anche usare la magia non ci credo no infatti quale? non so quanto vuoi non ho neanche guardato quasi così è riconverto a sto piccio a sole a verde 30 di fede vuole non trovo come non trovi la scheda madre? dovrebbe essere cosa più facile da trovare al modello intendi perché sennò è un po' tu lo vuoi il tizzone o anche pish pish pish? dipende che tizzone è profanato ti da quello da sanguinamento eeeh pish 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 prenderei poi quello del gigante che tanto ci devi passare davanti no? e non puoi non prenderlo visto che c***o è lì ma giù c'è c***o dovrebbe essere un'animella ho paura di di una c***a mospa wow non ho neanche fatto la realtà auguri no no ma prego eh io sono anche caduto nel frattempo ho preso il coso a meno che non mi invadano adesso no vabbè piccialo poi pace tanto spawni lì una volta che lei ha picciato credo vado a fare un livello 2 arrivo qui vediamo alla capitale delle secolelle come? ormai abbiamo tutti il fallo lì quindi direi che dovrebbe essere comodo può giocare solo? e noi siamo cattivi e allora buon divertimento su Rainbow Six aspetta 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 perchè non può usare il miracolo della lama del pugno? hai abbastanza vuole due slot è abbastanza fede e ne ho 35 due slot non lo so eh ma sta guardando cazzo non ho abbastanza PA ne vuole 50 PA uno slot e 30 fede ho tutto hai un'arma che si può buffare nell'altra mano benedetta e benedetta non puoi già più ah 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 eh no non puoi fare stita roccata non puoi doppio abbassare qua cioè puoi mettere potenziamento fisico quindi grezza pesante affinata quella roba lì ma se è già benedetta vuol dire che ha già un elemento quindi nope minchia ma posso staccare tutto lo staccabile ma non fare ok esatto aspetta che devo mettere l'ordine giusto prima la cura oooh ma tu guarda qua cosa posso usare ora cosa puoi usare ora? te lo faccio vedere appena arrivi chi evoca per primo? io mi sto solo buffando un attimo ma non è arriva subito mhm te le robe da consegno evoca sempre tu quel primo rippa che sei sei? il nostro spartiacco quando succedono i disastri minchia rippa è il nostro spartiacco eh oh non so se dirvi che culo o io non ho ancora portato una pergamena a sto pigio io non ne ho neanche trovato ancora una non l'ho proprio cercato bene in che senso una pergamena? quelle da dare a orbeck orbeck gli aveva portato le due credo io ma non ricordo dove l'ho presa no quando il ladro morì ma non vuoi più andare a morire molto meglio allora c'è uno simbolo nabbo più sorpresa eh spero che fosse il come più bello la gnocca vendeva cosa di decente eh no mai mai non mi ha mandato a stendere dopo che gli ha ucciso l'assassino io pensavo di ammazzarla così dà la seconda mano oscura vero? oh dovrebbe darti una katana ah già è vero la katana è il suo set io non so se fare il finale suo o fare ormai è fatto il suo a sto punto non hai dovuto i simboli scuri? eh aspetta simboli oscuri deve aver messo no perchè ancora fare la roba di Henry ne ho cinque simboli oscuri o quindi chi è Ocam? io tu metti il simbolo vai tranquillo non mi ha ancora fatto vedere Mira ora oh mio dio sei in mezzo nel dentro il pavimento lo so sono tra le due travi no tra i miei pavimenti mi hanno costritto il pavimento sopra più che sopra attraverso però non posso camminarti sopra ok posso solo fare tutto il giro per almeno prendere la chiave per Carla e cazzimatte deve andare direttamente dal boss da sigma è ovvio? aspetta pure che quando arriva Lucchia devo far vedere il nuovo incantesimo e qua che arriva questo wow quanto mana ti sei mangiato? pochissimo meno della palla del caos si o forse uguale aspetta il controllo ma è quella fisciosa no uguale 35 no non è quella fisciosa è quella che vuole 35 di fede poi qua arriva il gargoyla dov'è? e' qua che arriva così lo provo subito non posso portarlo no di qua non si va il gargoyla è appena morto a me mi sono perso ah di la siete andati si ti ricordi che soprattutto c'è lo stronzo che fa le magie tanto simpatichele oh madonna non gli faccio un cazzo alle cose della titanese mio dio eh grazie che me l'hai mandata giù la c'è la me quella no pensavo di riuscire a ammazzare ma io ce la faccio a uccidere senza problemi ho visto quanto è ho colpito 40.000 volte il muro si ma ho colpito anche la cosa nel frattempo però stai uccidendo lui si prendevo solo la moneta d'oro rugginita non mi ricordavo ci fosse quella cagata eeeh fammi direlo solo non c'ho i muschi che pale me ne da qualcuno questo io li ho venduti tutti me ne da tre grazie me li mettono beh puoi anche fartela senza i muschi se vuoi no no ma infatti però volevo prendere un po' di ciccia prima no penso che ce la farò senza i muschi ah infatti intossicato yeeeh eeeh wino mano pesa ma tu che hai fatto? 402 la trovo poco ho ancora meglio la palla del caos quella poi tutta la roba poi me la prendo da solo piuttosto mangia roba a caso e mi sa che bisogna andare a riprescare qualcuno mi ha shottato beh ma tu non puoi salire eeeh non posso tornare la adesso devo fare tutto il giro allora aspetta vengo giù io eeeh sali solo poi la scala che sono già li eeeh capisco dove devo andare qua posso lasciare il tipo eeeh lucchino mi sa che muori ma vabbè vuoi che vieni fino anche qua tu? eeeh vuoi che ti cacca un muschio? eeeh eeeh aspetta che non capisco dovevo andare vuoi che torno al falò direttamente visto che tanto anche lucchino vuoi che torno al falò direttamente visto che tanto anche lucchino ah ma è vero 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 è vero è vero poi sei sceso fuori probabilmente lo so le metto spook e gli butto su ma fa a culo che ragazzi non c'ho voglia non mi vado a break buk ma l'attarraggio la super arroia wow ho tirato una freccia più di uno a un ragno sotto gli ho fatto uno di danno era uber lontano no penso che vicino già 51 vaffanculo un gargoyle la rascio senza pietà eh no non ando più da lì eeeh beh rai prendo anche le titaniti della ciccia fai così vanno due scintillanti dai cazzo wow punti lì eeeh però il simbolo te lo metto nella prima isolotta dopo che mi butto giù eh e non puoi salire ancora la scala no perchè se no poi mi attaccano e mi beleno il primo isolotto dopo che ti butti giù ma ti attaccano adesso ti attaccano anche lì infatti sali la scala non ti attaccano lì a culo vedi la caca nel mondo di ripa è più guzzosa perchè io non mi sono avvelenato neanche io non mi sono avvelenato adesso è ancora colpa mia sì 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 pranzi sono arrivati tutti e due insieme uno fammi toccare devo toccare tutto pese eh uno è arrivato e l'altro sta arrivando e uno cerca di tagliuzzarmi non so quanto potrebbe servirmi la roba lì dentro perchè è tutta magia tutta roba da pago per me crederemo già con me provo solo a liberarmi è ancora altissimo qua sopra simpatico ci hai provato ottimo tentativo ahia fiasca che questo dà anche la fiasca pergamena di logan no non dà la fiasca vabbè ho sbagliato non devi buttarti dentro di qua per prendere c'è un ygmick qua se ricordo bene ma mi ricordo quanto dà non mi ricordo però la roba lì sopra era rabbia degli dei era wrath of the god quello che metterò adesso quindi sinceramente chi se ne frega vieni ti do una mano non mi serve levati io ti prendo parla non posso uscire non posso levarmi? però posso parlargli da qua ok palle c'è tra pubesco barile di merda lastra di titanite ho ancora un compito da portare a termine ma non me lo uccidere anello d'oro del serpente questo qua tipo lo metto subito per oh beh ti da l'oro del serpente no lì di fianco però ti da la lastra di titanite che forse è meglio e la chiave di Carla? non è qua ma Ethan era da lui? era per la strada insieme a liberare lui non ho detto che era da lui è qua scusa se sei alzato la mano ma l'uncino ha deciso di diventare invisibile qua sull'arco della porta si qualcuno vuole un saldatore che ne ho appena troppato un altro un? un saldatore dai che give a fuck è qui la chiave di Carla chiave del carceriere minchia si vede che hai giocato quattro volte eeeh cosa preferite? fare tutto ok? guarda che pesante si ho appunto uccito anche il gigante ma è qua o no? è che diventa invisibile beh è la razza che fa il sanguinamento piuttosto intanto glielo sta già mettendo anch'io quindi prova dovrebbe essere morto? si frammento di titanite così posso farmi l'arma più sei fiamma profanata ma c'è ancora un topo qui in mezzo giusto per pezzo di titanite quindi posso farmela già anche più 7 ok quello c'è anche a me cosa fiamma profanata dici? no il pezzo mi mi qua non mi ricordo cosa da però mi vince? mi vince? mi vuole aspettare quello? no? no perchè si porta dietro i topi freccia del fulmido ammazzadraghi mamma cagare mamma cagare che inutile no mi vuole aspettare ci ho fatto abbiamo salito la scala la scorcia che scorcia? dai perché volendo si può prendere la scorcia torno giù se non ci rompiballe in mezzo non ce ne sono rompiballe in mezzo effettivamente non mi ero ricordato la scorcia questa è quella che va direttamente al falò no? pesa vieni anche? stai venendo? vai anche se stai venendo qua su ok allora apro un attimo la scorcia e arrivo c'era anche una ciccia qua no? in mezzo da cadere in mezzo facciamo diretti il tuo boss prima di prendere le nostre cose vero? cosa? facciamo diretti il tuo boss scorcia aperta tutto più qua non vorrei dire cazzate ma ce l'ho qualcosa che ho fatto il piano sali 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 per favore non voglio scendere guarda il fatto che sembra che stai facendo un passo su e mezzo in giù ma va bene perché sto salendo piano oppala che c'era la ciccia qua il dardo del fulmine wow taglia di qua aia come ha fatto a prendermi ah le frecce eh vabbè non stai puntando me ma va a cagare c'hanno gli aimbot questi bot non è giusto vabbè l'uchino one shot aspetta allora la c'è una lacciartulina me la vado ancora a prendere aspetta aspetta prendo io prendo io prendo io prendo io ok grazie pezzo di titanite anime di cavaliere scoraggiato salute porco perchè non usate la scala cazzoni perchè there's no time ah ma c'è la scala? si quindi c'ha sempre buttato perché pensavo non ci fosse minca poi mi faccio scoprire ai top però madonna che botte meno male che c'è ripa che prenda tanto fammi cicchiare anche ad area qua ci sono ancora i topi eh ma fammi bazzare vabbè pesa one shot i toponi ora mi libero solo Carla mi libero Carla un attimo si ma non sta a lasciarla ma infatti sono passato qua di fianco così non dovrebbero attivarsi ma cosa hai fatto a salire là? magic veste da carceriere grazie eh no era questo? era questa qua non lo sa mi ricordo che è proprio a salire eh? occhio aspetta aggiungiamolo un attimo va prima questa è la presa e mi ha più il basso tanto sono tutte active no? cazzo no non fa no non fa eh scusa pesa Questa scusa? Quale questo? A momenti fai più in backstab tu che quello che faccio io Ah, non ce l'ho fatta, accidenti Vuoi anche salire normale adesso, sai vero? Si si lo so ma fa più figo Per quello, ce n'è ancora una di simpaticone Bla bla bla, bla 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 bla, offri aiuto, bla bla bla, salva comunque, bla 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 bla, ciao Salute Buonasera Bello parlare con i bot, bla 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 bla, si ciao, bla 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 bla, ok ciao, bla 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 Becca dove ci, penso dove ci becchiamo Bah, venite al palo, quando andate a fare il boss mi vedete la Allora aspetta Eh, da mia solo una mano ancora con sto... Ti già buttato Ehm... Sì È morto di nuovo? Io stavo correndo, sono visto qualcosa che ha fatto un arco direttamente giù Tipo, nope Fuck di shit mi uccido Eh sì sì, io ci sto da solo senza neanche arrivare al ponte Ma neanche... Ma neanche lontanamente... C'è proprio... Non c'è neanche provato Io sono da Sigmeyer Ma sei da Sig... Ah, voi siete là, è vero adesso Eh, usate uno solo del ritorno Ma io ho usato lo solo del ritorno, eh No Ma perché? Perché... Era un po' una merda Farvi venire di Sigmeyer Perché io ho lì Io sto andando un attimo in città a potenziarmi l'arma Visto che ho già trovato un po' di roba che mi serve Vabbè, io son qua il piccolo ammazzo, eh Se non c'è voglia di farmi dopo il gioco, di nuovo Cristo, sempre se non ammazza lui Chi cazzo sei Mandrake? Yeah, arma più 7 Eh... Sulla... sulla scheda mi segna 2,57 di danni Senza attacco Con cosa? Con le doppie spade 2,56 sulla scheda? Sì 3,25 col pugno Yeah, la pergamena, yeah Eh... Ma vaffan comino Ma vaffan comino 300 anime per salire di un livello E mangia qualcosa, no? Eh, infatti Ma... Io se che non devo andarla a prenda Beh, io sempre l'ho messo Quindi dovrete... Beh, lo vedete insomma Ok, ma volete liberare anche voi Carla Prima che io faccio il boss, o...? Io ho preso la chiave adesso Non te roli Non sarai io così prendo la pilomanzia della palla nera Evoco e io continuiamo a prendere tutte le immagini Va bene, io sto arrivando E tutte le immagini Ricordi... No, no, dai Non posso andare fino a primuovere il simbolo Ah, ecco Non sono messo l'indietro, non mi ricordo Messo il simbolo Con l'osso del ritorno Forza? Non so dove sei Come faccio a dirti per forza o no? Vado prendere niente da... Dalla barda Ricordo a non morire Ah, qua l'hai messo sotto a un messaggio rosso Rippa Beh, non lo vedevo il messaggio, sai com'è Ha 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 Il messaggio ha come un sogno Ma va... va 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 Certe cose io non le vedo, mi dispiace I best bro ever A parte il fatto che sono di nuovo Anch'io nel mezzo, nel pavimento Provo mettergli... Dagli la manina proprio Aspetta aspetta pesa Ma non ti vedo tanto Come non mi vedi? Sei invisibile Come so... eh? Sei invisibile che vuol dire? Cioè mi vedi solo un nome? Si Aspetta mi faccio rievocare piuttosto Mi butto Mi butto Tanto vorrei che arrivare l'altro Fatti Non sappiamo neanche dove si sia disperso Sto solo... Da... Rippa mi stia dicendo impossibile ma caro il fantasma Ma non l'ho ancora messo Ma l'hai... no no Di prima, ma l'hai venuto fin qua What? Tu vedi prima Io ti vedevo benissimo Eh... Si vede anche impossibile evocarti Va bene... Io l'ho rimesso il sim Non dov'è la prima, please Ehm... Non mi ricordo dove l'ho messo prima Sì l'hai messo la prima Anzi è ancora più ben nascosto Ehm... 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 E come si dice in questi casi pesa Adesso mi vedi? Wow! Sì ti vedo E il wow per cos'era? come si dice in questi casi? ah benvenuto si dice aspetta faccio quello che volevo fare prima surprise what the fuck neee è troppo se io mi butto devi prendere la scala qua se ti sono le salate se pesa ti trova o se almeno cerca anche solo di i ultimate shield se non fosse per la brucianza effettivamente saresti abbastanza ninja si perchè credi certi usagli e roba a caso per terra quello che si vede la brucianza quindi non è presa io non ti dico niente è qua sopra comunque e adesso siete fottuti tutti e due nooo che zotto non mi dico ma te le cose sconti mi giro dall'altra parte giuro non guardo io dovevo due che mi tappavano butta trippa no perchè ti uccidi poi ti fai tanto male non ti uccidi non ti uccidi ma ti fai tanto male rientra in quel caso allora non ti uccidi ma i demi da che ultima di percentuale giusto? dicono non ti uccidi ma non ti uccidi facevo le pin lo spirito oscuro è tornato nel proprio mondo non l'ho neanche visto arrivare neanche io riuscidelo ed è già tornato ah ma parli del gargoyle no non so qua dopo a gg tanto non è che è durato tanto di più le zettoline sono tutte morte quindi ok quindi vuoi lasciare direttamente per la scala o? ma se ti ha detto ma mi ascolti quando parlo? ah ah scusa no ho capito male che stavolta credevo di tenessi la scala da Sigmeyer no 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 la scala cioè vuoi prendere un po' di cicce non tanto non ci sono magie qui credo anzi la vaffanculo tu me l'ho ucciso prima e allora questa vendetta personale questa l'ho ucciso prima oh no questa non era lei poi sarà questa ecco cosa hai per la ciccia da qua? quale è quella lassù? quella qua in mezzo quella qua in mezzo ma che cacchio fa questa? ah si eri tu l'ora che mi hai ucciso prima no tuls fa abbastanza inquietudine per vedere un Patches lì così bianco cosi con quel nasone la io devo farlo ah beh si aspetta ma passiamo da sopra così ti prendi già anche il il coso ma brutta be non ho fatto backstab io anime gratis sono freccia avvelenate quelle la isa preoccupati perchè io e pesa abbiamo sempre le stesse idee vedo che anche isa è della mia stessa idea e pesa ha mancato malamente ma tutto è mancato non fate non andate non si prima voleva prendere il miracolo che c'era lì sopra beh a sto punto fai tutto da parte qua a sto punto non posso per targettarlo ora posso minchia che zampata che ne ha tirato eh beh le tira zampate più forti catalizzatore di logan frega questo serve a lucchino non a me e poi fai una cura giusto per sapere se curarmi o meno si serve anche a me per io serve anche a lucchino se solo lo trovassimo ah beh aspetti qua come c'è niente è una stanza che mi ricordo che è perfettamente inutile belle scale ma perchè pagano i modellatori 3d per fare le zone che poi smuseranno spero che almeno lì ci sia un dlc perchè sennò è veramente inutile eeeh devo farla cura vabbè non troviamo ancora lucchino che serve anche a lui o lo mandi a stendere è qua sopra vai aspetta mi devo riputare su di nuovo adesso beh però non dovresti prendere danni se lo becco o no se lo becchi si scusa c'è un dettaglio non da poco no prendi danni comunque no se si se evin se manca la colonna lì prende danni come cazzo hai fatto a mancare la colonna non so neanche io ma ce l'ho fatta ok non trovo nel mo uuuu non trovo nel mo uuuu sgorbio ha detto la suora verde si accompagnato dal mostro della palude e dal puffo nonno no la vecchina la vecchina la vecchina scusa non ti fai danni se cadi da lì vedo che hai detto il mio dilemma di qua lo sappiamo no ma perchè le picchiate non si arriva perchè poi tornano poi arrivano no ma arrivano in tempo sarai lascivi lascivi però prenditi le chiavi non buttarti ok eh gigante anche si gigante gigante mi te la voglio lasciare io ahia topi 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 via è morto grazie fiamma profanata che cacchio è non mi ricordo occhio intendo vai su da solo tanto devi solo aprire la porta per il falo della prigione letteralmente dove 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 cosa cosa dove la leva la leva non lo posso pushare ma se sei anche stronzo è l'occhino ma non ha bestemmiato quindi mi sa che c'è arriva anche con fare molto stiloso però possiamo rimandarlo su ah non sei sceso no sono rimasto su sulla censura quando ho detto dov'è la leva dov'è la leva dove la leva dovevo stare zitto e tirarla così qua non torna indietro vabbè sono troppo bravo ancora no ero rimasto su non volevo stare ancora ah non ce l'hai fatta salire no no ero su sull'ascensore però ce l'ho fatta a rollare fuori beh potrei che buttarmi se avessi beh ho l'anello del gatto eh ma credo che ti fai un po' male a meno che prendi le pedane ma non so se c'è la pedana e ce ne sono un po' di più non è che il coronello del gatto ecco mi faccio male o è tutto o è niente già è quello il problema dell'anello del gatto però è anche giusto così perché sennò saresti sempre di accadere ovunque sbattendotene di tutto ma c'è l'incantesimo quello strano che ti ha lasciato un muo di vita se aspetta no ma ti dava le frecce pesanti ma chi se ne piega ma io voglio ucciderlo mi dai anche le anime nope mi è bastata una zampata prima ehm fino ma dove siete stiamo dalla scala per continuare già ucciso due spadate mie due palle di 55.000 anime quel mimic quante? 55.000 mi sembra un po' strano ora da 55.000 ah ora ne hai 55.000 verso che ne ha date senti vuoi ribattere? chi che ha messo un messaggio qui? micchia non stare lì che sto per cadere giù ho visto dardi del fulmine quello là cos'è? dardi del fulmine ah ma frega poteva anche evitare di saltare infatti ho cercato di dirtelo apposta ma aia e questo dove è tirare la freccia? aia no 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 io ho un altro freccia maledetto micchia pesa cosa? overpower spacca oh ti vuol dire io ho messo le statistiche ho dimenticato eh vabbè ah ma non mai puoi passare di qua volendo dai lì? no dove? ehm to' mi stato dove è andato? so' caduto ti aspettiamo qua? si eh arrivano i topi no ho sberto la strada shh 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 non stai gli fermi i topi no can't handle è tanto male un po' di acqua pulita da bere questa lucchino proprio per farci il bagno ma perché stai combattendo contro i topi? perché mi è incastrato qua dall'ascensore e mi sa che qualcuno ben nabbo beh adesso siamo al falò piuttosto evocaci dal falò torniamo indietro a me non bastano le anime quindi ti metto simbolo mettilo alla prisione alla prigio ah hai usato il falò alla prigione la lo vuoi mettere? no però sono morto lì sotto le anime sono lì sotto va bene allora aspetta che mi sposto ho messo tanto guardo solo una cosa ho sentito robe allora aspetta ok 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 grazie per le rettine che mi hai bruciato proprio grazie l'ultimo l'hai già trovato adesso si lo prendo come un adesso si ah no questo posto è caricato quanto consuma? 40 40 di far l'info è invisibile come sono invisibile? di nuovo vabbè pazienza Oh, la mia anima! Ah, proprio qui? Eh sì, te l'ho incastrato! Non potevo più finire, perché l'ascensore era sua e c'era il buco! Dovevi chiamarci per prenderla? No, prenderete il Carla! Allora, dov'è cà? Però è la strada? Lì, però perché ti trasporti così? Perché... Sono flash! Ancora non lo sapevi! Vedo dei piedini in alto! Ok, sto camminando lento! Arriva la cavalleria! Ma possiamo buttarci e basta! Ma basta, calmi che mi fate male! Cazzo! Cazzo di arciere di merda! Eh, valla! Valla, valla! Farà una... In ultimo occhino corri! Vabbè, quello puoi tenerla caricata... Ma se la tieni caricata, cura di più o...? No, adesso si mette per tenerla caricata! In attesa solo... Boh... Poi sbagliato anche con io... Se vedi che l'altro salta e sei in controtempo... Poi provare a tenerla caricata... Passi qua adesso per la lucertola... Ah, ok... Un po'... Che cazzo è successo? Si è saputato, credo! Si! Amici! Amici! Di qua non c'è niente! No, perché volendo... Se scendevi la scala arrivavi da qua! Ok... Qualcuno mi salti sulla testa! Ah, siete passati di là, no? Dov'è il cazzo di zonite? No... Oh... Quanto parere mi sono già avvicinato troppo per farla scappare... Scusami! Ah... Ah... Ma dai... Beh... Pensavo che lo trattenessi per... Sì... Lo stavo facendo... Ma poi è andato in perterrito... Ho detto... Amen! Ok... Eh... Vuoi anche prendere il tizzone a sto punto? Sì, tu va? Eh... Pratico... Vieni qua! Ok, va bene! Ma perché dove non c'era? Finchia che bordello! Oh, che intendo! Wow! Questa è la bruciarmi il culo! Ce n'è ancora qualcuna? Ce n'è ancora... Allora, ce n'è ancora una qua! Che ne sono sicuro che è rimasta... Rimane sempre... Parata... Parato... Non lo so... Eh... Ok... Allora... Carlo è qua intanto... Se vuoi cominciare ad aprire... Ti è riuscito a saltare, eh, Lucchino? Che intendo... Bene... Ok... Questa va presa... Eh... Vuoi fare una cura per tutti? Pesa così... Vissete di Alva... Eh... Ok... Ok... Per il tizzone... Il petto... Comunque è la grande danzatrice... Quella che ti dà la cura ancora potente... Però consuma un fottio di più... Ok... Vedi che c'è una ciccia... Dall'altro lato della porta... Quello è il tizzone... Questo... Da queste parti è il tizzone... Il carbone lì... Esattamente là... Poi c'era altro... Ehm... Non mi pare... Ma adesso sono gli ultimi... Li lascio lì... Dov'è che hai preso lo stregone... Il vestito a stregone antico? Ehm... Faccio milling? Non l'avevo mai visto prima... Puoi farlo? Sì... Ah, forse è qua... Non mi ricordo... No, non era qua... No, non è io... Wow... Due scaglie... Ehm... Ehm... Questa qui è? No, lì... Lì... Non l'avevo aperto... Perchè c'è solo un... Uno stronzo... Non c'è niente... Lì c'era solo Alva... Ne... Non Alva... Cosa... Carla... Non mi ricordo... Sinceramente... Eh... Andiamo... Eh... Lucchino... Matti... Buttatevi... Vado al... Falò... Poi... O facciamo con Lucchino... YOLO... Ehm... Mi prendo sulla camera... Due secondi... La faccio lasciando... Tanto... Sono invisibile... Non faccio rumore... Ah, ma fai da solo? Ci metto due secondi... Va bene... Però... Mi sa che io stasera... Stacco già... Per evitare quei problemi... Con il mal di testa... Che ho avuto oggi... Ok... Grazie... Ok... Ok... Allora... Ho fatto ancora un livello... Fatemi vedere se posso ancora fare qualche potenziamento qua... No... In forza... Scusa? Voglio tornare indietro... Voglio tornare indietro dal Gargoyle... Si può? Dal Gargoyle... Si si può? No... Come no? E non riesci più a salire su? C'è la scala... Dove? Di fianco... O... O... Magic... Io non l'ho mai vista quella... Io la prima volta sono sceso da lì perché non avevo visto che si potesse... Scendere, diciamo, per i pezzettini... Per i scaloni che ci sono lì... Consegniamo ancora un po' di roba... Rinforza a fine della piromancia... Non posso potenziare... Mi mancano due pezzi di... Due pezzi di robe... Bla bla bla... Chiedi di apprendere... Bla bla bla... Dai tono della piromancia... Bla bla bla... Dai tono divino... Bla bla bla... Ok... Mi vende robe che tanto non riuscirò mai a utilizzare... Ehm... No... C'è ancora il mago che dovevo ancora dargli la scroll... Pergamena... Pergamena... Di Logan... Bla bla bla... Però stregonerie tanto non le userò mai... Alla suora cieca... Dai tono divino... Bla bla bla... Ok... Ho paura che gli insegnato qualcosa che non dovevo... Vabbè... Pace... Mi sa che è l'ora morning mi verrà a cercare... Vabbè andrà a cercare tutto... Ehm... Vabbè... Succede... Pace... Vabbè... Allora io con stasera... Vabbè... Allora io con stasera... Vabbè... Vabbè... Allora sto per stasera... Faccio... Vi saluto tutti... Ehm...